Fortunatamente, amici di Sud, abbiamo incontrato qui l'assessore che appunto sta comprando come noi e gli chiediamo una battuta su questa prima giornata del mercadino dell'attigianato. Delle pulci. Delle pulci e dell'attigianato. O delle pulci. Delle pulci. Delle pulci. Allora, un commento su questa prima giornata? Un commento? Sono contenta, sono soddisfatta. Certo, è come mi piace dirlo, un trasloco di casa, quindi i primi giorni dobbiamo sistemare alcune cose, ma sicuramente definire alcuni aspetti, sistemare alcune, diciamo appunto, non dico criticità, ma alcuni piccoli problemi, ma penso che sia stata la soluzione giusta. Anche per rispondere, diciamo, alle esigenze sia degli ambulanti che appunto... Rispondendo alle esigenze sia di questi, diciamo, espositori, che ricordo non sono dei commercianti, che possono esporre alla meglio e valorizzare quello che hanno, e di contro anche per i cittadini che possono appunto fare una passeggiata, in un ambiente bello, ci riappropriamo e comunque iniziamo a vivere il nostro porto e penso che sia un connubio e, diciamo appunto, abbiamo contemperato gli interessi con, diciamo, la possibilità che questo sia un novolano per quanto riguarda il turismo. Devo dire che mi sono compiaciuta vedendo dei turisti che entravano appunto al mercato stamani.